Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti o bentornati sul mio canale. A poche ore dall'uscita dell'update che ha introdotto i lattanti su The Sims 4, in questo video li vediamo un po' più nello specifico. Prima di lasciare il video vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ricordo anche che avete il codice attivo Maruco su Pampling. Pampling vende tantissimi articoli a tema nerd, anime, manga, serie tv, Harry Potter, Disney. Se utilizzerete il codice Maruco e passerete dal link in descrizione, con i vostri ordini avrete le calze omaggio. Detto questo però vi lascio al video e buona visione. E ragazzi, una giovane coppia in quel di Willow Creek, Adam e Dorotea, discutono animatamente. In realtà sono giorni abbastanza nervosi dal momento che è in arrivo una nuova vita nella loro famiglia. La nostra Dorotea infatti è in dolce attesa e vi faccio vedere che hanno già fatto tutti i preparativi per accogliere il bambino. Abbiamo infatti la nostra nursery, guardatela un po', dove ho messo i nuovi oggetti dell'update, la culla, alcuni oggettini che sono decorativi, la libreria. Insomma, è tutto pronto per accogliere una nuova vita. Infatti Dorotea sta cominciando ad avere un po' di bisogni che calano velocemente dal momento che il parto è davvero imminente. Ed è infine arrivato il momento del travaglio. Quindi chiedo alla nostra Dorotea, che intanto voleva mangiare, di partorire. Arriva fra noi una nuova vita. Un neonato che vedremo, ovviamente. Capiremo chi è, come si chiama, il sesso. E soprattutto scopriremo con lui tante cose legate alla nuova fascia d'età. È una femminuccia. Beh, la possiamo chiamare. Lily ci sta. Ed eccola qua che arriva la piccola Lily. Eh sì ragazzi, guardate un po' agli occhi azzurri. Ha una faccia rinnovata, ha dei movimenti molto più fluidi. I neonati sono stati decisamente migliorati. E intanto è stata multata. Ma vabbè, non importa. Vediamo un po' il papà cosa può fare. Può dondolarla, può fare anche dei versetti. Può anche parlare e coccolare la piccolina. Fintanto che invece lei mangia, per fortuna. E chiedo anche alla nostra Dorotea. Ma no, ma non ci credo. C'è il pack di quartiere. Non ci voglio credere. Ecco ragazzi, una piccola cosa che vi voglio far notare. E che è già apparsa la notifica del compleanno di Lily. Quindi, in pratica, ora i neonati hanno come durata della vita, se ovviamente giocate sul normale, due giorni sim. Di conseguenza ve li potete godere davvero pochissimo. Ma va bene così. In realtà sono stati modificati, hanno aggiunto alcune interazioni. Ma di base, ovviamente, il neonato ha una fascia di vita molto molto veloce. Quindi a breve, vedremo come la nostra Lily si comporterà in quanto lattante. Potete notare anche l'indicatore nuovo, sempre dell'update, che ci mostra quale abilità stiamo sviluppando. Intanto lei sta allattando la piccolina. Che, se non erro, al pannolino sporco. Quindi adesso la cambiamo. Vediamo un po'. Cura dei neonati. Cambia il pannolino. In realtà no, probabilmente è la mamma che ha bisogno di un bagno. Scherzavo, ragazzi. Eh, giustamente non lo possiamo fare perché c'è il pack di quartiere. Per fortuna piove, ragazzi. Almeno possiamo farci una doccia qua davanti a tutti. Ma almeno siamo tranquilli. Oh, guardate un po'. La piccola ora ha bisogno, necessita di far un cambio pannolino. Lo sta facendo il papà? In realtà non lo so. Sì, ragazzi, l'ha fatto il papà. Probabilmente. Sì, perfetto, perfetto. E signori, i neonati, come abbiamo visto appunto, hanno diverse interazioni. Sono molto molto carini. E a questo punto, beh, vai qui. Voglio fare una robetta. Forse sono troppo distante. Vado a far così. Scatto una foto. Eh, ragazzi, una piccola foto della piccola Lily. Guardate che carina. Direi che ce la teniamo. Questo perché, ragazzi, intanto abbiamo sviluppato un po' la fotografia. Questo perché, ragazzi, i neonati, come abbiamo detto, nascono già col compleanno dietro l'angolo. E credo, sia arrivato il momento di fare crescere la piccola Lily e di farla diventare un lattante. E non vedo l'ora. Cura dei neonati. Fai passare d'età. Chiamo anche la mamma. A raccolta povera che stava in realtà dormendo. Il pannolino sporco me l'hanno tenuto qui. Ho messo anche il cestino. Ricordatevi, ragazzi, il cestino è fondamentale. E ovviamente avete notato un'altra interazione, oltre al suono migliorato dei neonati, quando il bambino passa d'età, c'è un sim vicino che scatta una foto. Questa cosa è stata, ovviamente, aggiunta con l'update. Ed eccola qua. Scegliamo un tratto. Sensibile. E beh. Abbiamo solare. Abbiamo iperattiva. Sono sempre in movimento i desiderosi di giocare, ma spesso hanno difficoltà ad addormentarsi o a prestare attenzione per periodi prolungati. Calma. Cauta. Apprezzano ciò con cui hanno familiarità, ma impiegano più tempo ad entusiasmarsi per i nuovi sim. Intensa. Provano forti emozioni e sono facili da intrattenere, ma anche più difficili da calmare quando sono di cattivo umore. Io la farei iperattiva. Beh, ragazzi, se dobbiamo sfruttare i lattanti, sfruttiamoli fino alla fine. Lattanti, un mondo ricco di sorprese, giochi e comunicazioni, attende solo di essere esplorato. Ed eccola qua. Eccola. Intanto la nostra piccola Lily, vi ricordo che in Crown Sim c'è un intero comparto di vestiti, eccetera. Beh, è un sim attivo. Può gattonare. Io, infatti, ho messo qua qualche giocattolino, così almeno la possiamo anche intrattenere. Però lei è iperattiva. Ed è anche spaventata, ragazzi, dai temporali. Voglio vedere che fa. Stava andando dalla mamma. Poi ha cambiato idea. Guardate come i lattanti si muovono. È bellissimo. E pian piano gattonano. Lei non sta sviluppando nessuna abilità di sorta. Ma comunque far gattonare i lattanti, farli giocare, farli interagire con gli oggetti, parlarci, eccetera, è davvero fondamentale, eh. Quindi controlla i lattanti, possiamo parlare con lei, possiamo anche giocare a Bubu Settete, possiamo fare anche Conforta, perché era un po' spaventata. Possiamo fare diverse interazioni con la piccolina. E tutto questo è molto importante. Addirittura qua abbiamo la libreria nuova. E come vedete, ragazzi, funge proprio da libreria a tutti gli effetti. Intanto vediamo un po', eh, che fa la mamma. Ok, prende la bambina. Molto bene. Sta chiacchierando con Adam, ma sta anche cullando la bambina, perché i lattanti ci danno la possibilità di fare più interazioni, come dondolarci, o sederci, eccetera, con loro in braccio. E guardate un po', tante interazioni tra mamma e figlia. Questo, ragazzi, è fondamentale, mi raccomando. Ed è fondamentale anche fare diverse altre azioni, ma pian piano le facciamo, eh. Vediamo un po'. La mamma si è seduta qua. E allora proviamo col papà. Facciamo un po' di interazioni con la bimba, tipo bubussettete. Eccola, guardate un po', ragazzi. La mamma la fa da seduta. Potete fare bubussettete anche, vedete, da seduti. La bimba è spaventata, quindi cerchiamo di confortarla. Perché, ragazzi, povera, è spaventata dal temporale. Possiamo cambiare l'abito di Lily e ovviamente ci sono quelli di default, ma li possiamo cambiare nei crown sim, come sempre. Possiamo fare un bagno con la schiuma, nutrirla con il biberon. Vediamo un po' i bisogni della piccolina. Ecco, in questo caso, lei ha bisogno di essere cambiata. Quindi il papà si prenderà giustamente la bambina e farà un bel cambio panno. Intanto la sta cullando. E, povera, la bambina è sempre spaventata, però anche ora di ondeggiare per il tratto iperattivo e amata per aver ricevuto affetto. Ora, però, cambiamole il pannolino perché decisamente è il momento. L'abbiamo fatto? Sì. Molto bene. E il pannolino, spero, sia volato dritto dritto là. E a questo punto possiamo fare sorridi ad Adam. Mastica! Guardate un po'. I lattanti hanno tantissime cose. Aiuto! Lei è giocosa. Fatti dare da mangiare da Adam. Adesso, ragazzi, facciamo delle cose. Lei è diventata buona amica e il fatto che un lattante diceva così tante attenzioni come giusto che sia farà in modo che cresca in maniera sana e davvero bella. Spaventata dal temporale. Ok. Ogni tanto piange, ogni tanto ride. Fa un po' di tutto. Abbiamo visto anche come i lattanti interagiscano con le altre fasce d'età, con gli animali, eccetera, eccetera. Oh, guardate un po'. Eh, ha morso il dito al papà. Eh sì, eh sì. Per fortuna sta bene. Sta bene e allora chiedo lei di giocare ancora un po'. Vediamo un po' se questo la distrae dai temporali. Prima o poi, ragazzi, la pioggia passerà su The Sims, me lo auguro. Intanto che la bambina gioca, io farei un'altra cosa. Intanto notare la polvere che è tornata tranquillamente nelle nostre partite, andrei in questa sezione e prenderei un bellissimo seggiolone. Ok, lo metto qua. Il topastro di polvere lo mettiamo in bagno, non si sa mai. E ragazzi, cominciamo a svezzare la bambina e aiutiamola con la prima pappa. Abbiamo tanti tipi di pappa diversi, non ho ancora mai provato e questa cosa è importantissima. dar da mangiare le pappette all'attante non solo lo aiuta a determinare i suoi gusti fin dalla tenera età ma soprattutto aumenta le interazioni familiari. Quindi ricordate di farlo. Il papà sta bene, la bambina ecco a fame. Perfetto, perfetto. E allora direi che ci siamo. Proviamo a fare l'humus fatto in casa. Vorrei provarli tutti ragazzi, vediamo un po'. Vai, vediamo un po' la piccola Lily che prova l'humus e intanto la mamma poi la mandiamo a far radersi. Eccola qua che arriva con l'aeroplanino. Ok, speriamo gradisca. Vediamo un po'. Mi pare di sì. Non è rimasta convinta. È un cibo che forse dovrà dare una seconda possibilità. Va bene, va bene. Continua a mangiarlo. Questa aumenta la fame, sì, quindi provare le pappette comunque equivale a un pasto per i bambini. E in realtà la piccola ha bisogno... Eh sì, la piccola sta per far quello che deve. Quindi in realtà aiuta Lily a scoprire il cibo. Nutre dubbi su. Proviamo i cereali d'avena. Intanto la bimba ovviamente si lamenta perché non sono tanto inclini a stare nel seggiolone. Oh no, Lily non ha gradito, non ama l'avena. Va bene, buona sapersi, buona sapersi. Per quanto riguarda invece l'igiene dobbiamo semplicemente aspettare. Clicca per completare automaticamente l'interazione. Usa il pannolino, ragazzi. Quando un lattante ha bisogno di andare in bagno potete cliccare su di lui e come vedete ha appena usato il pannolino di sua sponte e starà adesso ovviamente alla mamma ovviamente cambiarlo. Quindi cambiamo il pannolino, proviamo altri cibi, non gradisce, proviamo il purè di patate dolci e qua ragazzi non ho giustamente il cestino quindi devo far così. Ha gradito! Ok, lei ama le patate dolci. Bene, bene. Quindi ragazzi dovete fare delle prove. Ora, la piccola sonno e quindi approfitto per andare qua a aggiornare e mettere la giostrina con gli uccellini ragazzi. Ci mette un po' la mamma a farlo, eh? Ci mette un po'. Però, tranquilli che adesso arriva la giostrina e questo è tanto tanto carino. Perché? Perché adesso prendiamo Lily e la mettiamo a letto e vi faccio vedere le interazioni. Ecco qua la giostrina con gli uccellini. Quindi io posso far così, posso mettere, riproduci la ninna nanna fra Martino e metto Lily a letto. Però Lily è già addormentata. Oh povera, si è addormentata sul seggiolone. aspettate, metti Lily a letto e in teoria fermi tutti. Oh, ma cosa sto vedendo? Eeeh, ripulisci, grazie, prima di metterla a letto. Povera, si è sporcata il musino. Aspettate. Aspettate ragazzi che la bambina ha bisogno di essere ripulita con una salvietta. Ok, e la mettiamo a dormire. E in teoria il lattante ora dovrebbe provare ad andare a nanna. e qua però proviamo a fare qualcosa del genere ovvero riproduci nina nanna dormi dormi bel bambin. Vediamo un po' se questo funziona. Vediamo come si comporta perché lei ha molto sonno quindi come osi mettermi giù e soprattutto assonnata però oh, la nina nanna funziona vedete? Con la nina nanna riusciamo a farle addormentare. È davvero carino. I lattanti sono stati fatti davvero a modino secondo me. E intanto al nostro papà è cresciuta la barba ma guardate quante interazioni guardate tutte le animazioni sono carinissime e sto utilizzando tante animazioni con la todlerina perché voglio che cresca ovviamente nel migliore dei modi. Ora proveremo altri cibi vediamo un po' gli stati umorali ora di ondeggiare amata essere straordinario e sveglia e felice per il risveglio ragazzi devo dire che sta andando tutto bene e qui ragazzi con il telefono e scatto una foto di abbiamo diverse pose per i lattanti vediamo un po' ce ne sono altre sì casuale oh guardate che carine le pose perfetto queste le mettiamo in saccoccia a questo punto io proverei a scoprire altri tipi di cibo proviamo il gelato vediamo un po' è estate quindi dai ci sta vediamo un po' se lei gradisce sì lo adora oh abbiamo trovato il cibo preferito della piccola Lily molto bene molto bene vi ricordo ragazzi che mancano in realtà vi ricordo ragazzi che mancano solo 4 giorni sim quindi dovete approfittarvene e cercare di fare il possibile porridge di riso vediamo un po' 5 giorni sim non sono tanti in realtà e non l'ho aggradito e vabbè e vabbè oltretutto il lattante ragazzi vi ricordo è importante che vada a giro a gattonare muoversi eccetera intanto la mamma gioca con la polvere ma grazie perfetto oltretutto i lattanti hanno diverse interazioni con gli armadi possiamo scegliere di giocarci dentro vediamo un po' con i letti no sono abbastanza sicuro con i mobili della cucina potete chiedere al lattante di giustamente giocarci dentro lui farà dei disastri però è una cosa carina ecco qua che gioca e ovviamente è sempre spaventata però dal temporale ora della nanna per essere sveglia per essere stata sveglia troppo a lungo uh vuole fare un pisolino qua ovviamente possiamo giocare anche con i giocattoli da toddler ragazzi questi sono già presenti dai toddler lili è stata multata ma povera lili con le multe oh guardate ha cambiato la tutina però ho chiesto lei di usare il pannolino prova ad andare a nanna eh non ce la fa ad addormentarsi eh quindi prova ad usare il pannolino vediamo un po' cosa succede ok ha usato il pannolino il papà la cambia ovviamente tipo instant grazie e la metti a dormire riproduci ninna nanna dormi bambino e mettiamoli lì a dormire qui e intanto la mamma ha tolto già tutto quindi la culla è a posto vediamo un po' se lei riesce ad addormentarsi in teoria dovrebbe con la culla ma vedete che il papà da lei il bacio della buonanotte può anche raccontare una favola della buonanotte fa addormentare rassicurando ci sono tantissime interazioni che aiutano i bambini ovviamente ad addormentarsi pian pianino e fanno in modo che crescano ovviamente amati e ricchi di attenzioni quindi state attenti perdonate il gioco di parole dovete avere tante attenzioni voi con i lattanti però come vedete è davvero tutto molto carino guardate la mamma che dondola qua vicino la nostra giostrina bello bello ragazzi eh l'abbiamo aspettato tanto ma direi che spero in realtà e credo giocandoci ne sia valsa la pena dai intanto però approfitto per rifare la barba potrei anche utilizzare la nuova fence e bloccarla in modo tale che la lattante possa andare in giro solo per una stanza o addirittura posso anche cliccare direttamente su una porta se non voglio che vada ad esempio all'esterno e fare applica la protezione per neonati al momento non l'ho fatto anche perché stiamo sempre in casa ma tenete a mente anche questo se volete fare nella vostra casa un'area gioco dove stare pur tranquilli che la tante gioca lì dentro e non va via lo potete fare quindi mi raccomando pensate anche a quello per il resto tutto va bene seppur la bambina come vedete ora ha fame e quindi approfitterei per fare altre scoperte di cibo passato di zucca vediamo un po' ragazzi mi sembra una tipa un po' beh come dire mi sembra molto golosa e mi sembra una bambina che ama non tanto le verdure vabbè stavolta però si ah no non è rimasta convinta eh ce l'avevo dato l'unico cibo che lei ama è il gelato quindi in realtà ragazzi Lili è una bambina che gradisce il cibo un po' particolare però è giusto che sperimenti tutto ovviamente ragazzi però aspettate questo non significa che la bambina mangerà solo pappette io adesso lo sto facendo anche per farvi vedere la dinamica in realtà ragazzi di base con la cura dei neonati voi dovete continuare a dare il biberon oppure l'allattamento al seno e integrare le pappette per rendere il tutto più realistico secondo me si potrebbe fare il primo periodo dell'attante quindi il primo giorno quindi il neonato è il primo giorno dell'attante in cui si decide se preferisce il biberon o l'allattamento al seno ma dare il latte poi dal secondo giorno secondo me cominciare a svezzarlo con le pappette credo che questo renda il gameplay un po' più intrigante e soprattutto realistico io sono andato giù dritto di pappette per farvi vedere però in realtà se vi posso dare un consiglio almeno credo farò così io nei miei gameplay probabilmente farò un po' di prove sicuramente intanto nutre dubbi su limone non credo sia una bambina da limone vediamo un po' non ha gradito povera ok ok ovviamente poi ragazzi come vi dico sempre il sims 4 aggiunge delle dinamiche sta a voi decidere come giocarle al meglio e provo a dare il purè di piselli la bambina che ha è la bambina furente tradita per aver provato un cibo sgradito ma povera per 49 minuti infatti vedete la mamma la sta rassicurando eh ci sta povera ovviamente per essere sentita tradita da noi che abbiamo dato a tradimento il limone ma povera aspettate che la coccoliamo gioca bubussette vediamo un po' ok facciamo un po' di interazioni con la bimba ok dovremmo averla un po' rassicurata la bimba vediamo un po' mentre ragazzi è innaturale anche dar da mangiare le pappette una dopo l'altra l'ha gradito anche in questo caso le pappette come vedete sono un ottimo una ottima fonte di cibo quindi in realtà ovviamente dovete farlo solo qualora la bambina o il bambino abbiano fame il fatto di dare così tante pappette non credo sia troppo naturale ragazzi ma come vi ho detto in realtà questo lo dovete giostrare un po' voi ecco qua intanto preparo la ninna nanna ok e mettiamo lì lì a letto perfetto la giostrina è partita la mamma però darà ovviamente il bacio anzi la favola della buonanotte e fai addormentare rassicurando e vediamo se questo funziona in realtà si funziona la bambina doveva usare il pannolino non l'ho visto però ha funzionato e infatti l'ha fatta ragazzi ovviamente potete evitare che il pannolino si sporchi in questo modo utilizzando l'interazione in uso del pannolino prima altrimenti ragazzi va da sé che il pannolino sarà sporco proviamo ragazzi le carote tritate e intanto ridendo e scherzando sono passati dei giorni sim mancano solo tre giorni pensate che in cinque giorni io sì per carità ovviamente ho provato quasi tutte le pappette quasi tutte le interazioni ma non tutte soprattutto la bambina non ha fatto tante cose come giocare e gattonare a giro state attenti è una vera e propria challenge la fase d'età a tanti dura troppo poco intanto però ha gradito le carote tritate brava lei e allora proviamo a fare anche gradisce gradisce la cosa che ama di più è il gelato avocado vediamo un po' do l'avocado alla bambina e poi faccio anche una bella doccia ha gradito ha gradito ma nulla come il gelato quello è rimasto nel cuore della piccola bambina che però deve usare il pannolino quindi basta cliccare su di esso e come vedete l'ha già utilizzato perfetto e però ha bisogno di divertimento quindi mi faccio trasportare qui vedete che comincia a piangere perché la bambina ha bisogno di giocare e soprattutto di gattonare a giro quindi in realtà sdragliati piangi gattona in giro questo è importante fai storie fatti cambiare fatti dare da mangiare insomma potete fare qualsiasi cosa io farei l'opzione di gattonare in giro intanto questo lo sostituisco velocemente perché secondo me aiuterà tantissimo il movimento ecco è successo quello che non doveva in pratica è andata qua fuori però in realtà i lattanti non vanno oltre le scale quindi in questo caso vedete lei è felice se anche ha bisogno di andare a letto e pian piano va a giro e si stanca noto che se chiedete al lattante di andare in giro si stanca molto molto velocemente il che è realistico vedete come la barra del sonno è calata di colpo perché si è sforzata e quindi ci può stare dai oltretutto in questo caso non l'ho per niente come dire non ho toccato la bambina la bambina si è addormentata sul pavimento ecco perché l'aggiunta dei tappetini per fare in modo che il bambino possa anche dormire agevolmente se poi vi fate una sala giochi mettiamola così con il recinto e mettete la moquette secondo me si può emulare anche il fatto che il bambino può dormire a terra quando sta giocando basta che abbia dei peluscini e delle cose comode ci può stare dai la piccola lilia ha odiato la papaya non è rimasta convinta da salsa di mele e qua ragazzi poi c'è da fare una considerazione vediamo un po' ok proviamo gli ultimi cibi e poi traiamo le nostre conclusioni ne mancano due purè di mango vediamo un po' se le piace degustazione superata proviamo l'ultimo ragazzi lo yogurt è aggradito il gelato ok vediamo un po' non ha aggradito lo yogurt a questo punto ragazzi se noi andiamo sul pannello possiamo capire una cosa tutti insieme su alcuni cibi i lattanti nutrono dubbi alcuni non li gradiscono i cibi con la scritta non gradisce ovviamente sono quelli che probabilmente non cambieranno in realtà lei non ama per niente il limone non ama per niente l'avena non ama la papaya non gradisce lo yogurt la bambina li odia e questa cosa credo non si modificherà col tempo in questo caso noi possiamo provare a ridare questo cibo per capire se verrà fuori gradisce o ama oppure non gradisce quindi quando voi aiutate i lattanti a scoprire il cibo ricordatevi che quelli per cui nutrono dubbi dovete provarli più volte per capire poi i suoi gusti detto ciò abbiamo provato tutti i cibi e credo che questo abbia fatto della bambina effettivamente una bambina molto molto amata intanto ha appena usato il pannolino ma era troppo tardi quindi facciamo direttamente un bagnetto assolutamente sì quindi vasca pulita e facciamo un bagno con la schiuma alla nostra lili aspettate sveglia ok prendi in braccio in realtà posso fare cura del neonato e fai direttamente da qua un bagno con la schiuma perfetto così vi faccio vedere l'interazione del gioco base in pratica si riempie la vasca si mette una sorta di piccolo lettino e come vedete si fa il bagnetto alla nostra lattante eccola qua ovviamente la si distrae anche con la paperella la schiuma e anche la spugna però è carino carino intanto lei ha bisogno assoluto di andare a dormire papà prepara giustamente tutto possiamo aggiornare ancora di più la nostra culla vi ricordo con l'abilità a livello 2 di manualità e 50 simoleon e la possiamo trasformare in letto qualora ovviamente la bambina poi cresca vi ricordo c'è anche questa opzione che ho trovato decisamente carina bambina pulita e a questo punto si va a fare qualche coccolina e la si mette a dormire molto bene molto bene qua farei riproducendo una nanna questo e farei anche addormentare rassicurando tanto notare ragazzi però che qua c'è da svuotare tutto eh sì signori ricordatevi di mettere piccolo consiglio anche un bidone qua fuori perché come vedete i pannolini fanno andare diciamo il bidone che è una meraviglia ragazzi faccio vedere gattona in giro stiamo sul bisogno del sonno perché l'energia dovrebbe calare abbastanza velocemente vedete la bambina sta andando a gattonare in giro la possiamo fare anche giocare possiamo fare diverse cose con lei oltretutto possiamo anche coccolarla e fare qualsiasi cosa vediamo un po' quindi possiamo fare parla importante il dialogo il coccola bubussette insomma possiamo fare diverse cose e vediamo come se la passa la nostra Lili Lili che ha giustamente sperimentato tutti i cibi appunto dobbiamo provare a darne altri possiamo allattarla vi ricordo insomma c'è tanto tanto da fare però mi pare davvero una todlerina che sta crescendo bene dondurio rassicurante giocosa amata ora di ondeggiare insomma mi pare davvero vada tutto bene con la nostra piccolina che intanto gioca c'è da notare ragazzi che lei diventa triste se sta sveglia troppo a lungo a prescindere però in realtà come vedete l'energia è bella piena però se lei sta in realtà troppo tempo senza dormire perde la pazienza cioè i lattanti a prescindere dal grado di sonno che hanno devono fare costanti pisolini prova ad andare a nanna vediamo un po' se funziona no e allora aspettate provo con il trucco vediamo un po' riproduci di una nanna dormi bambino questo dovrebbe farla addormentare perfetto signori cambiamo il pannolino che necessita di essere cambiato e soprattutto allatta il seno perché la bambina ha fame e quindi semplicemente lo si può fare come con i neonati perfetto come vedete ragazzi però grande differenza sta nel fatto che io lo sto facendo in cucina lo posso fare da seduto sul divano negli altri ambienti della casa e così via insomma a differenza dei neonati non siamo per forza rilegati al punto in cui si trova la culla tanta roba adoro farmi tenere in braccio ben assistita essere straordinario ora di ondeggiare ragazzi abbiamo visto più o meno tutte le cose ma ovviamente in una partita più complessa con più oggetti eccetera e più dinamiche anche familiari sicuramente tutto si mescia meglio però di base guardateli guardate che bello fermi tutti questo è da screen mamma e papà sul divano con il lattante in braccio che vi devo dire possiamo stare anche seduti tutti e tre ovviamente in una partita più complessa con le dinamiche familiari rapporti personali eccetera tutto questo sarà portato a un livello molto molto più alto con cresciamo insieme ancora di più ma bene o male abbiamo visto tutto quello che riguarda un lattante nelle prime fasi d'età quindi stare attenti al lattante dovete controllarli ce lo diceva anche il sito ufficiale perché perché dopo un tot di ore devono comunque fare il pisolino stare attenti perché vanno a giro a gattonare stare attenti perché comunque richiedono tante attenzioni provare a svezzarli con diversi cibi dare loro tante attenzioni farli camminare ma interagire anche con loro parlare eccetera e insomma non è una fascia d'età semplice seppur dura cinque giorni sim vedete in realtà lei fra due giorni mi passa d'età è arrivato il momento beh di farla passare d'età vediamo un po' cosa succede perché ragazzi perché oltre al tratto che noi abbiamo scelto in questo caso iperattiva se la toddlerina cresce in maniera molto molto buona e in realtà ragazzi non avendo le abilità qua è difficile determinarlo però credo di averla trattata bene ho sempre cambiato il pannolino ha degli stati morali che dicono che è stata amata coccolata ho comunque fatto provare a lei tutti i cibi in teoria la nostra livi dovrebbe crescere in maniera molto molto buona e significa che potremmo effettivamente ricevere un tratto bonus un tratto premio con la nostra lattante quindi vediamo se l'aver dato lei tante attenzioni ci ha ripagati oppure no vediamo un po' cosa succede io mi sono impegnato per fare in modo che lei ricevesse tutte le cure più importanti e infatti lili è passata d'età seleziona il tratto che sostituisca quello da lattante lili ha guadagnato un tratto bonus puoi vedere tutti i tratti bonus di lili nel pannello simologia lattante di primo ordine pensate un po' lili è di primo ordine un lattante che è stata amata e ben assistita il che aiuterà a mantenere una visione ottimistica della vita tratto premio questo ragazzi è fondamentale credo avremo anche il tratto malus se non la trattiamo bene ma questo vi aiuterà anche con cresciamo insieme ad avere un bambino che è più sicuro di se stesso e quindi crescerà in un certo modo e quindi ragazzi si vediamo un po' curiosa da iperattiva curiosa direi che ci sta in teoria ora la nostra lili che vive quanto grandi ragazzi ora che ci sono i lattanti di toddler giganteschi rispetto a prima assolutamente sono stati un minimo rifresciati li vedo molto più grandi guardate un po' eh guardate la nostra lili come è contenta le abilità ovviamente sono tutte da sviluppare ma dalla simologia abbiamo appunto curiosa e lattante di primordine quindi ragazzi si divertitevi con i lattanti curateli prendetevi cura di loro perché tutte le vostre scelte determineranno il continuo della loro vita e come cresciamo insieme ci insegnerà a breve tutto il relativo per questo video ragazzi io vi dico che è tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti